Mi sento sconfitto in mio occhio Mi sento sconfitto Fabri Dai andiamo di gara a 2 adesso su Minchia partenza di merda C'è 2 secondi da recuperare Gara in rimonta per Fabrizio Eh Ricali ha guerrito adesso però Ah No Sono girato Vai 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 Il fatto che mi sono girato ha influenzato parecchio Le gomme Ho un'aterenza diversa Eh ma ti stai avvicinando Sì ho perso un secondo e mezzo Guarda quanti stai recuperando Vediamo vediamo Che tempone che ho fatto Quanto è girato 48 9.85 Che ha 2 minuti e mezzo Ma credo di avere rotto il cambio in scalata sai Un problema a cambio Sì bello Gustav Ma c'era sto guasto su resto Non lo so Un minuto e 40 Scala male scala No l'ho preso malissimo Ma guarda come scala male Senti mi cali che trova le scuse Senti No no Cioè praticamente io freno a scala Ma rimane con la marcia No Traditrice No dai che traditrice No Dai avevi fatto un lavoro spettacolare Dai no Ti sei girato Ma sì Che bastarda Ah È l'ultimo giro questo quindi Ti vedo là Bravo 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 Alessandro Quindi pareggio Mi tengo il fastest lap però Bellissimo 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 Bravo Bellissimo 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 Bellissimo